Carico, scavare Carico, interruoto un pochino scavare E' importante quello che faccio Tuishin chan Malmo che scuote il cuore Faccio anche frontale 2, 3, 4, 5, 6, 1 Sto usciato Non la mano li è Sì No, non così 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 Pompà Così E poi la ruota Così Ciao 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 4, 5, 6, 7 La mano sopra la gamba a sinistra Penetro da sotto E colpiscono la mano Così Grazie 1 Poi avanzando 2 Ecco Sì Questa è La fermo 1 Avanzo 2 l'importante è non muovere quest'altro, non mi stancherò di dirlo uno scusa mi avviso come funziona uno ma come indietro buonissimo no, in questo caso potete finire e invece di farlo così, sono belli uno partite vado più piano due alza la gamba un po' ti proteggi un po' ti proteggi